In questa lezione ripassiamo l'addizione e la sottrazione tra frazioni. Abbiamo visto che il caso più semplice è quello in cui devo sommare due frazioni che hanno lo stesso denominatore. Ad esempio, due quinti più un quinto. Abbiamo visto che la somma tra due frazioni aventi lo stesso denominatore ha come risultato una frazione che ha lo stesso denominatore e come numeratore la somma dei numeratori, quindi 2 più 1 che fa 3. Possiamo rappresentarla, quindi io prendo il mio intero, lo divido in 5 parti uguali. Rappresento due quinti, devo aggiungere un quinto, quindi ho ottenuto 3 quinti sommando le due frazioni. Vediamo un altro esempio con frazioni con lo stesso denominatore, come prima. Ad esempio, due ottavi più cinque ottavi. Non riduco i minimi termini due ottavi, altrimenti mi troverei con denominatori diversi. Quindi, il denominatore resta lo stesso, il numeratore è la somma dei numeratori, quindi 7 ottavi. Lo rappresento graficamente. Quindi, ho diviso il mio intero in otto parti. Rappresento prima due ottavi. Devo aggiungere 5 ottavi. Quindi, questi sono 5 ottavi. Quindi, in totale, ho colorato 7 parti, cioè 7 ottavi. Passiamo adesso al caso in cui ci troviamo di fronte due o più frazioni con denominatore diverso. Allora, prendiamo, ad esempio, 3 ottavi più 2 settimi. La prima cosa che devo controllare è che le frazioni considerate siano già ridotte ai minimi termini. In questo caso, 3 ottavi e 2 settimi sono già ridotte ai minimi termini, altrimenti avrei fatto io la riduzione ai minimi termini. Quindi, primo passaggio, riduzione ai minimi termini. Secondo passaggio, calcolo il minimo comune denominatore, cioè il minimo comune multiplo tra i denominatori. Quindi, calcolo il minimo comune multiplo tra 8 e 7, in questo caso. 8 e 7 non hanno divisori in comune, quindi sono primi tra loro. Quindi, il minimo comune multiplo è 8 per 7, che fa 56. A questo punto scrivo una linea di frazione più lunga del solito e ci metto sotto 56. Adesso, devo trasformare 3 ottavi e 2 settimi in frazioni all'ora equivalenti a 20 per denominatore 56. Allora, facciamo a parte in un riquadro i passaggi che facevamo fino a qualche giorno fa. Quindi, devo trasformare 3 ottavi in una frazione ad esse equivalente con denominatore 56. Come faccio? Devo capire per quanto ho moltiplicato 8 per ottenere 56. Per capirlo, devo fare l'operazione inversa, cioè 56 diviso 8, che fa 7. Ho ottenuto 7, quindi adesso moltiplico 3 per 7, che fa 21. Trasformo adesso 2 settimi in una frazione ad esse equivalente con denominatore 56. Stessa cosa, 56 diviso 7 fa 8, quindi ho moltiplicato 7 per 8 per ottenere 56. Moltiplico anche il 2 per 8, che viene 16. Adesso quindi ho 21 cinquantaseiesimi e 16 cinquantaseiesimi che hanno lo stesso denominatore e sto a sommarle perché ho visto nel caso precedente che basta sommare i numeratori. Invece di scriverle separatamente, quindi scriverle in questo modo, 21 cinquantaseiesimi più 16 cinquantaseiesimi e fare poi la somma, metto un'unica linea di frazione più lunga e sotto ci metto il cinquantaseiesimi. 21 più 16 fa 37, quindi questa è la somma di 3 ottavi e 2 settimi. Vediamo come si fa saltando tutti questi passaggi intermedi. Allora, stavamo dicendo, metto una linea di frazione più lunga, 56 come denominatore comune e faccio i passaggi che ho fatto prima, però in modo più compatto. Quindi faccio 56 diviso 8 che fa 7 e moltiplico il 3 per 7 che fa 21, lo scrivo qui, più. 56 diviso 7 fa 8 per 2, quindi faccio 2 per 8, 16, 21 più 16, 37 cinquantaseiesimi. Quindi, il terzo passaggio che ho fatto adesso è trasformare le frazioni date, quindi le frazioni iniziali, in frazioni equivalenti con lo stesso denominatore. vediamo un altro esempio in modo più breve. Prima ancora però ricordiamo che il risultato che otteniamo lo possiamo semplificare, quindi ridurre ai minimi termini se necessario. In questo caso non si può fare, quindi lasciamo il risultato in questo modo. facciamo un altro esempio. 12 quattordicesimi più 3 quinti. Allora, il primo passaggio è ridurre ai minimi termini le frazioni se necessario. 3 quinti è già ridotta, invece 12 quattordicesimi è riducibile, quindi divido per 2 che è il massimo comune divisore tra 12 e 14, quindi diventa 6 settimi. Quindi devo fare adesso la somma tra 6 settimi e 3 quinti. Lo riscrivo per avere l'esercizio in modo ordinato. Secondo passaggio, calcolare il minimo comune multiplo tra 7 e 5, cioè il minimo comune denominatore. Tra 7 e 5 è 35. Faccio 35 diviso 7 che fa 5, lo moltiplico adesso per 6, 5 per 6 è 30. Più, stesso passaggio con l'altra, 35 diviso 5 fa 7, 7 per 3, 21. 51, 35esimi. Che non si può ridurre, perché 51 e 35 non hanno divisori in comune, oltre 1. Passiamo adesso alla sottrazione che è assolutamente identica nel procedimento. L'unica osservazione è che nella sottrazione la prima frazione deve essere necessariamente maggiore della seconda. Ad esempio, facciamo 8 terzi meno 2 quinti. Quindi, linea di frazione, minimo comune multiplo tra 3 e 5 è 15. 15 diviso 3 fa 5, 5 per 8, 40, meno 15 diviso 5 fa 3, 3 per 2, 6. 40 meno 6 fa 34, quindicesimi. Per quanto riguarda la riduzione ai minimi termini, il metodo è lo stesso dell'addizione. Cioè, se devo ridurre le frazioni iniziali, lo posso fare subito. E stessa cosa per il risultato. In questo caso non posso ridurre, perché 34 e 15 sono primi tra loro. Cioè, 1 è il loro massimo comune divisore. Provate a fare queste, poi mettete in pausa il video e, quando rimettete il pletro, vedrete la soluzione. Allora, vediamo la soluzione della prima. Innanzitutto, devo ridurre ai minimi termini le frazioni iniziali. Allora, la prima divido 25 e 40 per 5, e quindi diventa 5 ottavi. La seconda divido per 4, diventa 5 quarti. Quindi devo fare adesso 5 ottavi più 5 quarti. Lo riscrivo per questione di ordine. Adesso, minimo comune multiplo tra 8 e 4 è 8. 8 diviso 8 fa 1, per 5, 5, più 8 diviso 4 fa 2, per 5, 10. Quindi viene 15 ottavi. E non devo ridurre. Passiamo alla sottrazione. 30 e 20 divido per 10, diventa 3 mezzi. 12 e 36 divido per 12, un terzo. Ovviamente potete dividere anche prima per 2, poi per 4 e così via, e poi per 3. Oppure fare direttamente diviso 12, che è il massimo comune divisore. Quindi, ricopiamo per questione di ordine anche questa. Quindi, 3 mezzi meno un terzo. Non è necessario ricopiarla. Tra 2 e 3, il minimo comune multiplo è 6. 6 diviso 2 fa 3, 3 per 3, 9. 6 diviso 3 fa 2, 2 per 1, 2. 7 sesti. Anche questa è già ridotta ai minimi termini.